Ciao a tutti ragazzi sono Celophysis e oggi siamo qui in questo nuovo video di Clash of Clans Così questo oggi ho deciso di fare un nuovo video su Clash of Clans visto che non lo facevo da un bel po' di tempo Sto migliorando come vedete tutte le torri delle arcieri, i cannoni e pure i mortali Questi qua li ho migliorati, adesso sto finendo di migliorare giusto questi E poi boh migliorerò questi altri oppure questi, vedremo Comunque qua ci sono varie gente, ciao a tutti quanti voi nel clan Quest'oggi sono qui per farvi vedere il calorifero perché ho portato molto avanti il secondo villaggio Infatti come vedete ho il municipio a livello 6 Ho la macchina del costruttore a livello 2 che ancora dovrei migliorare di nuovo E ben pesto farò le streghe notturne Farò un video quando le farò molto probabilmente Ok quindi Quest'oggi proviamo il calorifero quindi facciamo un attacco Vai L'audio come sempre è uno schifo ma non posso fare di meglio Vai attacchiamo Bang Ho migliorato anche i cannoni, tutto quanto ho migliorato Ok però questo qui è tanto potente non credo che vincerò Però almeno vediamo se è efficace il calorifero Lui non ce l'ha Ok Come vediamo la macchina da guerra è stata distrutta completamente Vai i giganti entrano Mamma mia per pochissimo eh Stavano per essere colpiti tutti quanti Ma i cannoni a rotelle qui li hanno salvati Non faccio neanche il 50% mi sa eh Spara Spam Vai Spaccalo Grande Andiamo un po' Magari ce la facciamo Andate Spagate quel mortaio del caspita Boom No Dai per il 3% Vediamo un po' che fa l'avversario adesso Ciao a tutti Magari dopo facciamo anche qualche sfida Visto che Abbiamo già finito qui Ok Ho perso Vediamo un pochino quanto è stato efficace il calorifero Se è stato un buon acquisto insomma Dove che ha piazzato le truppe? Dove? Ah qua giù in fondo Uno Ok Questa qui Questa zona qui è pericolosissima eh Ci sono tantissime bombe qua in mezzo Ecco Guardatelo Sembra davvero fortissimo Brucia Però nonostante tutto questo qua Mi ha disintegrato tutto Però guarda lì che danni che fa eh Devastante Ma non ha una macchina da guerra questo? Ah Che tristezza aver perso conto sto qui Beh comunque abbiamo visto che funziona Magari facciamo anche un'altra partita Dai vediamo Possiamo o no? Allora non la facciamo nulla Vai faccio qualche sfida qui Vai sfida Mandate delle sfide Ok attacchiamo Joe Vai Con il mio esercito classico Joe veramente Non è un gran che Sinceramente eh Scusa ma Vai Vabbè possiamo dire che è un villaggio compatto Ecco Ma mi sono dimenticato di mettere le mongolfiere Cavolo Metti le mongolfiere Ok Tu du tu du Scusa Sinceramente ma perché ha due cannoni? A questo livello qui dovrebbe averne di più eh Magari è una tecnica strana che non conosco Ok comunque con me non ha funzionato Un gran che B Vediamo se mi hanno attaccato me No Ancora no Ok attacchiamo caso 0-4 Alla più difesa è lui di Joe Vabbè andiamo Perché attaccano questa casupola qui? Vabbè Vai mongolfiere Un giorno dovrò cambiare questa tecnica però Per ora funziona ancora Vai ci si butta tutto Uno e due Devastazione Credo che comunque ragazzi non farò più tanti video su clash of clans perché Non mi ci diverto più tanto a giocare È bello parlare con la gente che sta nel clan però Non ci faccio tanto altro Non ci gioco tantissimo Attacco in guerra e basta Quindi farò molti più video di clash royale adesso Soprattutto visto che iniziate la scuola non potrò fare una serie fissa per ora Cosa dicono? Nulla ok Ah ecco questo è il vero villaggio di Joe Perché prima aveva due cannoni e basta? Non lo so Via Ah mi sono dimenticato questi E questi E questi Guarda pure il doppio cannone Anch'io ce l'ho disattivato perché faceva schifo Stra Ok Metti questa Ok Caspiterina Non metteva la furia E questo La mettiamo qui al centro Perfetto La torta Le torte io ne ho trovate soltanto due Caspita perché? Perché tutti hanno le torte e io ne ho trovate due soltanto Giuro Due soltanto ne ho trovate in tutti questi giorni del quinto anniversario Quello che è Che succede qui? Qui si discuta Va bene Perfetto ragazzi Direi proprio che per oggi è tutto Vi ricordo che il clan è power papera Potete entrarci se avete 1200 trofei E saluto un pochino tutti quelli che sono il clan Quindi direi proprio che per oggi è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti